Omonimo album Queste note cresceranno grazie a mani via via sempre più abili, precise, sciolte e impeccabili sulla tastiera. Sono i giovanissimi musicisti della Piano Academy, la scuola di pianoforte fondata da Marsida Coni, una pianista albanese che iniziò a suonare da piccolissima e ora continua con grandi collaborazioni internazionali. I suoi allievi ce l'hanno messa tutta nel loro concerto Il pianoforte sotto l'albero e sono riusciti nel loro intento fare a genitori e amici un bellissimo regalo.